E' un abbottino multiuso, signora mia. Mortillaro esegue 14 funzioni integrate in un solo innovativo elettrodomestico dal design prestigioso. Sì, ho capito, ma scusi, ma chi gli era a terra è il numero mio? 20 nominativi. Freschi, freschi, sicuri, sicuri, tutti per te. Io la capisco benissimo, però se il nostro tecnico... Ho capito, signora, però lei non mi... E allora vaffanculo te, porca troia, vaffanculo, che cazzo! Oh! Telefonista anche lei? Turno pomeridiano. Sindacato precari, Giorgio Conforti, molto piacere. Papà, ma che stia fa? Ma non venite le conto che è lui che ci vada per il culo a tutti! Ma perché non ti fai un ritocchino qui, leggero, leggero? Ci penso. Ma lei quant'anni c'ha? 24, signora, perché? Ah, allora, forse ha conosciuto mi nipote Giulia. Ah, Giulia, sì. E che fa di bello adesso? Purtroppo non c'è più. Marta, del turno 9.13! Non è tu come ci sei finita lì dentro? Io cercavo lavoro e ho trovato questo. È strana, è laureata. No! 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 No, 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 no Grazie a tutti.